Voglio leggervi un brano che avevo inserito con molto piacere e convinzione sia in questo libro Mario Igonisterni, Il coraggio di dire no, dove avevo raccolto le interviste e conversazioni più significative con Rigoni e in testa anche la mia biografia sempre di Mario uscita nel 2016 e ho pensato di fare questa scelta perché è un breve monologo che mi ha colpito tantissimo quando un giorno andai ad Asiago a trovare Mario gli chiesi di raccontarmi la sua scelta del settembre del 1943 lui iniziò a parlare con un modo così diretto chiaro franco e con parole che mi sono rimaste davvero dentro al cuore per tanto tempo e così ho pensato me le voglio portare con me passo a legge eravamo numeri non più uomini il mio era 7.943 ero uno dei tanti mi avevano preso nelle montagne a confini con laus mentre tentavo di arrivare a casa dopo l'otto settembre ci portavano a piedi fino a Lisbeth e poi dopo quattro cinque giorni ci caricavano sui treni e ci portavano in un territorio molto lontano che a noi era sconosciuto oltre la Polonia vicino alla Masuria in un lager dove poco tempo prima erano morti migliaia di uomini gli storici parlo di 50 e 60 mila russi erano prigionieri morti di fame e di tifo noi andammo a occupare le baracche che avevano lasciato libera nello Stamm Lager 1B dopo quattro cinque giorni ci propostero di arruolarci nella Repubblica di Salò ossia di aderire all'Italia di Mussolini eravamo un gruppo di amici che avevano fatto la guerra in Albania e Russia eravamo rimasti in pochi ci siamo messi davanti allo schieramento e quando hanno detto Alpini fate un passo avanti tornate a combattere abbiamo fatto un passo indietro e gli altri ci hanno seguito e fumo coperti di insulti di improperi avevamo visto cos'eravamo noi in guerra in Francia prima poi in Albania e Russia avevamo capito di essere dalla parte del torto dopo quello che avevamo visto non potevamo più essere aliati con i tedeschi perciò da allora fumo considerati dei traditori uno della gente che non voleva più combattere e ci trattavano da tali nell'ordine dei Lager venivamo subito dopo gli ebrei e gli slavi noi che non eravamo neanche riconosciuti dalla Croce Rossa internazionale ci chiamavano internati militari ma eravamo prigionieri dietro i reticolati con le mitragliatrici che si seguivano ogni volta che ci spostavamo abbiamo resistito tanti di noi non sono tornati più di 50.000 nostri compagni sono morti nei Lager durante la seconda guerra mondiale io ritornai nella primavera del 45 dall'Austria dove ero sfuggito dal mio ultimo campo di concentramento arrivai a casa che pesavo poco più di 50 kg ero pieno di fame e di febbre e feci molto fatica a riprendere la mia vita non riuscivo nemmeno a sedermi a tavola con il mio e a dormire nel mio letto ci vogliono tanti mesi per riprendere la mia vita avevamo dietro le spalle la storia che ci aveva aperto gli occhi su quello che eravamo noi e su quello che erano quelli che ci dichiaravano essere i nostri nemici quello che ci avevano insegnato nella nostra giovinezza era tutto sbagliato non dovevamo credere obbedire combattere non dovevamo credere in libri libro faccio moschetto avevamo imparato a dire no nel campo della battaglia ed è molto più difficile dire no che sì ecco e lo ripeto anche a voi ragazzi imparate a dire no imparate a dire no alle lusinghe a chi vi vuol far credere che la vita sia facile imparate a dire no a chi vi vuol fare delle cose che sono contro la vostra coscienza credete solo alla vostra voce è più difficile dire no che sì grazie 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 grazie